Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio del podcast Sport & Sofa Oggi nuovo episodio, quindi nuovo ospite Oggi siamo con Alessia Trost Ciao a tutti, è piacere Io appunto mi chiamo Alessia Trost Faccio salti in alto Faccio parte del gruppo sportivo Fiamme Gialle Ho fatto un po' di gare in nazionale E niente E siamo qui per scoprirti, insomma Abbiamo un po' di domande da fare, come ogni puntata E quindi hai detto salto in alto Come sei arrivata a scegliere questa disciplina tra tutte quelle dell'atletica? Ma io ho iniziato a fare l'atletica in generale Quando ero piccola, seguivo mio padre al campo sportivo E era un po' dista E poi ha iniziato ad allenare una piccola squadra di atletica Io ero la figlia dell'allenatore, che stava sempre in campo Sotto i piedi di tutti E fondamentalmente poi lì sono rimasta Ho iniziato a fare salto in alto E quando il mio primo allenatore di salto in alto, Gianfranco Chessa Ha intravisto che avevo le caratteristiche fisiche per avvicinarmi alla disciplina E senza che io me ne accorgessi, lì mi ha portato Ok, quindi con l'occhio sempre dell'allenatore Sì Noto che comunque questa è una cosa abbastanza importante Anche ad esempio con l'esperienza di mio fratello Con qualcuno che me l'ha raccontato stando qua È sempre stato l'occhio di un allenatore a vedere qualcosa in più Sì, per me è stato fondamentale È stato un po' come innanzitutto avere un secondo padre al campo di atletica E poi è stato soprattutto Ha significato avere qualcuno che credeva nel fatto che io potessi fare qualcosa E l'ha visto prima di me Questo ha dato una gran mano nei momenti di difficoltà E soprattutto ha reso la disciplina veramente mia È come se mi fossi stata donata Certo Da una persona di gran fiducia Bello così Insomma ti fidi completamente della persona che ti ha portato in quel posto, no? Sì Penso che sia una delle Il rapporto tra atleta e allenatore Secondo me è uno degli aspetti più belli dell'atletica E immagino e penso anche degli altri sport in generale E anche nel contesto della vita È abbastanza un unicum, credo Sì, perché comunque poi È strana la figura dell'allenatore Perché non sai bene dove collocarlo, no? Però è proprio un posto a sé Comunque a me è capitato di Ho fatto sport ad alto livello E l'allenatore era l'allenatore Non era né da una parte né dall'altra Era l'allenatore Quindi c'è una figura particolare Vale Sì, figura tecnica Da un lato Conosce le metodologie Ti guarda e cerca di applicarle Rispetto a come tu funzioni Che secondo me È una delle cose più ammirevoli Che un atleta può notare in un allenatore E poi c'è la parte umana Che è sia allenarsi tutti i giorni Ma anche stare insieme in campo E poi gareggiare Che è un'altra cosa ancora Io con tutti i miei allenatori Nel corso del tempo Poi ho sempre avuto una forma di comunicazione Veramente specifica Che funzionava per quella combinazione di persone È bellissimo Sì, è molto particolare Senti, ad oggi Quali nel palmares Ormai utilizzo questo termine Nel palmares Delle medaglie Cosa puoi Diciamo vantare? Ma la Gara Che mi ha dato maggiore soddisfazione Probabilmente sono state Le Olimpiadi di Rio Nel 2016 Dove sono arrivata quinta Probabilmente Un risultato che in quel momento Doveva essere migliore Però a me ha dato grande soddisfazione E invece A livello internazionale Poi ho vinto una medaglia di argento Ai campionati europei indoor Nel 2015 E nel 2018 Una medaglia di bronzo Ai campionati del mondo indoor E questo a livello assoluto Invece a livello giovanile Ho vinto abbastanza Sia da Allieva Ho vinto un campionato del mondo Che da junior Ho vinto un altro campionato del mondo E da under 23 Dove ho vinto un campionato europeo Ricordiamo da allieva Qual è l'età E il junior invece? Allora vado a ritroso Perché sono veramente Non le ricordo Quindi gli under 23 Sono le promesse In italiano Under 20 Quindi 18-19 anni Sono gli junior E 16-17 Giusto Sono gli allievi Ok Quindi molto piccoli insomma Si Allievi Perché poi ogni sport è diverso Cioè Le denominazioni sono sempre le stesse Junior Cadetti Quello è Però poi l'età Cambiano gli anni Cambiano gli anni Senti Quanto incide invece Lo sport Nella tua vita Nella tua vita privata? Mi verrebbe da dire molto Ma forse dovrei dire tutto Ok No scherzo Sicuramente ha fatto parte Della mia vita in toto E veramente l'atletica È il linguaggio Della mia quotidianità E quindi conseguentemente Della mia vita E ha regolato Anche le varie fasi Della mia vita Personale Oltre che sportiva E non so se questo È stato sempre Una cosa positiva Cioè in certi momenti Probabilmente avrei dovuto Dare più spazio Ad altre cose E però Ha sicuramente Un ruolo Nella Nell'approccio A tutto quello Che sta fuori Fuori dal campo E forse questa È l'esperienza più bella Che mi porto E mi porterò sempre Dentro Dell'atletica E dell'essere Uno sportivo In generale E forse anche un atleta È la matrice Del modo nel quale Mi muovo nel mondo E forse Mi trovo anche In difficoltà Descriverlo Perché per me È sempre stato così E non conosco Altri modi Di muovermi È bello quello che hai detto Innanzitutto Il termine matrice Mi è piaciuto molto E puoi Diciamo Approfondire questo Approcciarsi alla vita In maniera Dedicata Probabilmente Allo sport Cioè La forma mentis Che ti ha dato Io ho iniziato A fare Atletica In maniera Un po' più seria Dopo che ho vinto I campionati del mondo Allievi Nel 2016 Perché mi si era Aperto davanti Un nuovo mondo Nel quale mi rappresentavo Esattamente come gli atleti Che avevo fino a quel momento Visto in televisione E per me Quello significava Portare un modello Dentro la mia vita E L'ho perseguito E così è stato E Ha funzionato Fino Per lungo periodo Nel senso che Sai Ti comporti come un atleta Nel senso che Ti alleni Ovviamente Cerchi di fare attenzione A Tutto quello che Migliora la qualità Dell'allenamento Quindi dormi In un modo Mangi In un modo Pensi In un modo Organizzi la tua vita In un modo E A un certo punto Questo Ha portato E' andato tutto Molto molto bene Ho fatto due metri Nel 2013 Che è la mia migliore Prestazione Ad oggi Ed è anche un'ottima prestazione A livello internazionale E Sono stata proiettata In una dimensione Che probabilmente era Oltre le mie corde E Con Una grande visibilità Addosso E anche una grande responsabilità Dal punto di vista sportivo E Improvvisamente Quel modello Che Io avevo Portato avanti Fino a quel momento Ha Smesso di funzionare E E lì È iniziato L'interessantissimo Viaggio Nel mondo Dell'atletica Dei grandi Perché Non funzionava più Quello che avevo Idea Funzionasse Poteva funzionare Solo quello che funzionava Per me E quindi ho dovuto Iniziare a cambiare Le modalità Con le quali Mi avvicinavo Appunto Al modo in cui Mi alleno Al modo in cui Mi curo Al modo in cui Mangio Al modo in cui Dormo Eccetera Eccetera Ed è diventato tutto Estremamente personalizzato E questo È stato Molto Molto Bello E lì Veramente L'atletica Ha iniziato A permeare La mia vita Non solamente Come Modello Messo Su di me Ma anche Nella direzione Opposta No Ero io Che Facevo qualcosa Perché l'atletica Diventasse La mia Atletica È È Un'esperienza Molto Bella Secondo me Beh sì sì Ognuno vive Lo sport In maniera diversa Poi comunque Ognuno Prende qualcosa Dallo sport Che poi Vuoi non vuoi Fa parte della tua vita A questo livello Soprattutto Per sempre Sostanzialmente Perché non hai Come hai detto tu prima Altri modelli Da seguire Perché Ho fatto così Tutta la vita Non saprei Come fare altrimenti Insomma Non saprei come Muovermi in altri modi Bello È Molto interessante Anche il fatto Che hai Di vent'anni Giusto Perché nel 2013 Poi Avevi vent'anni Giusto Che no E C'è stato Quel cambiamento Di modello Che dice Cavolo Non funziona più Come Come prima Devo cambiare Sostanzialmente No Quindi Un'evoluzione C'è stata Immagino Sì 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 Me ne sono Resa Conto Dopo Perché Nel momento In cui Otteni il massimo Risultato Ovviamente Ti sembra Tutto Ben organizzato E tutto Ben impostato E a un certo punto Ha iniziato Invece ad essere Una bicicletta In cui i pedali Andavano da soli E non c'era nessuno Che la Che la muoveva E Quindi Sì È stato Sicuramente Un'evoluzione In alcuni momenti Probabilmente Un'involuzione E Ora Se lo vogliamo pensare In In senso Esclusivamente Performativo In alcuni momenti Il fatto di Sperimentare E dover provare A cambiare i percorsi Che stavo seguendo Non è Non ha Necessariamente Portato Ad un risultato Positivo C'è sempre stato Un Un percorso Di sviluppo Non sempre Di crescita E probabilmente Questo è stato Anche quello Che Mi ha fatto Cambiare prospettiva E in un momento Ancora successivo Rispetto a quello Che Che facevo E Agli obiettivi Che mi ponevo In relazione All'atletica Bello Bello E cosa pensi Si è Successo In quel Cambiamento Perché A un certo punto Il modello Che avevi all'inizio Ovvero Negli under 20 Deve così Potremmo dire Non funzionava più Cosa c'è stato Che è cambiato Credo non funzionasse più Perché non era mio E Stavo In qualche modo Mi ero messa dentro L'abito Di un Di un atleta Per come era Secondo me L'atleta Ok In realtà A un certo punto Si è rivelato Un po' vuoto Sai Quando facevo le cose Però non ne comprendevo Più il significato E quindi Ho dovuto Fare mia La quotidianità Dell'atleta Quindi Ricominciare un po' Da cavo No? Sì 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 Sotto Soprattutto dal punto di vista Dell'approccio Magari Nella Dal punto di vista comportamentale Non cambiava niente Però era Come io Vivevo Quello che stavo facendo Che effettivamente Doveva Doveva cambiare Ok Ok ho capito E quanto pensi Di essere stata fortunata In questo percorso Ad aver incontrato Le persone giuste Al momento giusto Sono stata Alternativamente Fortunata Ho incontrato Innanzitutto Il mio primo allenatore Gianfranco Che è stato Veramente Fondamentale E Ho incontrato Marco Tamberi Che è stato Il mio secondo allenatore Il quale mi ha Dato veramente molto Sia in termini Di approccio A quello che stavo facendo Sia in termini Tecnici E Con delle difficoltà Legate al fatto che Caracterialmente Eravamo molto diversi E io Sicuramente Subito molto La sua La sua presenza Però Non potrei dire Che Di non averne tratto Qualcosa di Di positivo E poi ho fatto Alcuni anni In cui Provavo A capire Qual era La strada Da percorrere Soprattutto dal punto di vista Metodologico E tecnico E tecnico E ho sbandato Ho cambiato allenatore Ogni anno Per due o tre anni E non è stato Positivo Negli ultimi due anni Da quando mi sono trasferita Qui a Roma Ecco Le trovate E anzi Sono molto dispiaciuta Del fatto Di essermi fatta male Adesso Per cui Non possiamo Portare a termine Un percorso Che avevamo iniziato Con Inizialmente Con Andrea Matarazzo E Fabrizio Donato Che peraltro È già stato qui Ha frequentato Questo divano E che poi Ho proseguito Solo con Emanuele Margivin Che è anche L'allenatore Di tuo fratello Persone che conosco Hai tirato fuori L'argomento Perché Dovete sapere Che con Alessia Dovamo già Vederci da tempo Solo che Mi scrive Dopo una gara Mi fa Guarda Forse c'è un problema Perché mi sono rotta Al tallone Nel taglio di Aguille E quindi Insomma Oggi è riuscito A venire Perché Fortunatamente Ti vedo col tutore C'è stato un intervento Emanuele Sì Ho fatto Mi sono fatta male Il 27 di gennaio E il primo di febbraio Mi hanno operato Perché il tendine Era completamente Era completamente Rotto E E poi è iniziato Il lungo processo Di attesa E Finalmente Adesso Deambulo Autonomamente Domani Toglierò anche Il tutore Inizierò a camminare Riprendendo le stampelle Quindi dai Passo la volta Allora Parliamo di infortuni È stato il primo O c'è stato Un Trascorso Dei precedenti Insomma È il primo Veramente rilevante E Poi Nel 2014 Ho rotto Un legamento Della caviglia Sinistra Quindi Dell'arte di stacco E nel 2015 Invece Avevo avuto Una Lesione Al tendine D'achille A destra Allo stesso Esatto Però Qui c'è un problema Di tipo strutturale Nel senso che Ho la caviglia Molto lassa E quindi per quanto Rinforzo Proviamo a metterci Attorno Nel momento in cui Inizio a saltare Quindi a fare Più tecnica La curva Fa sì che Ci sia una Pressione Enorme Sulla caviglia Quindi che Essendo lassa Soffre E Più di tutti Evidentemente Ha sofferto Il tendine D'achille E Poi invece L'anno Due anni fa Ho avuto Un Un problema Legato al fatto Che Verosimilmente Avevo perso Cambiando molti Lenatori Avevo perso La struttura Muscolare E Questo aveva inciso Sulla capacità Della struttura Scheletrica Di sostenermi Io sono Alta 1,88 Fortunatamente Non peso Molto Però Comunque Avevo Una La struttura Scheletrica Era molto Sollecitata Rispetto All'attività Che L'intensità Dell'attività Che Che Porto avanti Quindi Si era creato Un problema Strutturale E iniziavo Ad avere male Veramente Dappertutto Perché poi Questo ricadeva Sul sistema Nervoso E Quindi Mi ero trovata Nella condizione Di non riuscire più Ad allenarmi Perché fondamentalmente Il mio corpo Era troppo stanco Ed era troppo stressato E questo Questo è stato È stato Un altro momento Di passaggio Nella mia Attività E vita Di atleta Volevo smettere Perché Era un Non era un dolore Localizzato Era un dolore Molto diffuso E E portarselo a casa Tutti i giorni In giro Tutti i giorni Iniziava a diventare Pesante Pesante E E anche Mentalmente Stava iniziando A farmi pensare Sui Ai motivi Per cui Facevo Facevo L'atletica Le fiamme gialle A quel punto Mi hanno preso Per i capelli E mi hanno detto Pensaci E poi ho fatto Altri due anni Di attività Beh Diciamo che Questi momenti Fanno un po' parte Della quotidianità Un po' di Non della quotidianità Però della vita Un po' di tutti Ci sono momenti In cui Si pensa di Voler mollare Quello che si sta facendo Poi fortunatamente C'è chi In questo caso Nel tuo caso Le fiamme gialle C'è chi Ti prende E dice Pensaci bene Insomma Infatti Poi sei Ancora qua Diciamo Nello sport E Questo tipo Di infortunio Sbaglio È simile A quello che ha avuto Pure Gianmarco Lamberi Allora Gianmarco Si è Lesionato I legamenti Della caviglia Poi In realtà Nello specifico Non so Se ha avuto Anche un danno Osseo Il suo infortunio Era Legato al fatto Che È arrivato A staccare Troppo vicino Alla Al saccone Ok Stava provando Due quaranta Quindi Spingi tanto E guadagni Centimetro Dopo centimetro E quindi È arrivato Troppo vicino E al posto Di mettere Il piede Con un grado Di Un certo grado Di incidenza L'ha messo Più parallelo Rispetto al piano Della Della sticella E Il corpo È andato Da una parte E il piede Sava dall'altra Esatto E Io invece Ho rotto Il tenine D'Achille Semplicemente Correndo Ho fatto i primi Due passi Di rincorsa Al secondo Si è staccato Ah quindi Neanche allo stacco Cioè proprio Durante la rincorsa Sì Ha fatto Pop Ah Ah Immagino Non immagino Perché non credo Si possa immaginare Il rumore Poi Immagino Sentito pure il rumore Sì sì Ho proprio sentito Il rumore Che è un rumore Sordo È una sensazione Stranissima Mi sono girata Distinto Per vedere Tu non sei caduta No poi sono caduta Ma mentre cadevo Mi sono girata E pensavo Di aver perso la scarpa Cosa inverosimile Perché Certo È impossibile E E niente Mi sono trovata per terra Beh Cioè Nel Nel momento Si era proprio Cioè Si era rotto Internamente Quindi tu non vedevi niente Esatto Sì Non si vedeva niente Sì Solo che Lì per lì Ho capito Ho sentito Molte volte Le narrazioni Su questo tipo Di infortunio Perché è un po' Un fantasma Che ci aggira E Quando Ho sentito Questo rumore E Mi sono ritrovata Per terra Ho capito Immediatamente Che mi ero rotta Il temile D'Achille Che effettivamente Era un infortunio Grave E che Avevo quasi 31 anni Adesso Li ho E Dicevo Cavolo Ci ho messo due anni Per arrivare A questo punto E questo infortunio Richiede Un anno Per tornare A Allenarsi E quindi È stato È successo tutto Molto velocemente E Quindi Ha fatto Poco male E Molto male Certo Certo Immagino Ho capito La metafo Insomma Però Ti chiedo Hai fatto Magari Mente locale Sul motivo Per il quale Ti si sia Lesionato Così Perché comunque Un tendine Non prende E si rompe Da un giorno All'altro La cosa Stranissima È stata Che Io ho sempre Avuto Male A questo tendine Proprio Perché Per la questione Della caviglia Lassa Ed è un dolore Con il quale Convivevo Periodicamente Solamente Durante il periodo Delle gare E Invece Durante il periodo Della preparazione Non avevo Neanche un po' Di male Non avevo Per niente Male E E quando Invece Poi iniziavo A lamentarmi Chiunque Guardasse Il tendine Diceva Cavolo Però La struttura Del tendine È integra Ed era Un tendine Grosso Nel senso Che Era il doppio Veramente Rispetto A quello All'altro E Quindi in realtà È stato abbastanza Sorprendente Negativo Che si sia Rotto Perché era Integro E Stranissimo È successo È successo Strano Ma è successo L'unica cosa Che mi dico È che Ci sono Ovviamente Per noi È pane quotidiano Allenarci Con dei dolori Perché Se dovessimo Considerare Tutti i dolori Che abbiamo A quel punto Staremmo Fermi Probabilmente E Per me Questo era diventato Uno dei dolori Che ignoravo Forse A ritroso A posteriori Non lo so Sì Poi Parlate con i se Con i ma Insomma È sempre un po' Relativo Sì È anche vero Che comunque Come dici tu Di fatti a un certo livello Di sport Ci si allena sempre O comunque Spesso Con fastidi Che L'agonismo Non fa bene Come dico Dico sempre Non fa per niente E bene Perché comunque Porti al limite Il tuo corpo E infatti poi Può succedere Di tutto Non sempre Si può prevedere Di avere comunque Un team dietro Abbastanza Competente O comunque Che si renda conto Di alcune cose Non è sempre facile Non è sempre facile Assolutamente E Parliamo di Emozioni Visto che comunque Ci siamo addentrati In questo mondo Qual è stata L'emozione Positiva Più forte Che hai avuto Nella tua Vita Sia sportiva Che privata Se ne vuoi parlare Dal punto di vista Sportivo Credo che La La soddisfazione Più bella Sia stata Quella Delle Della Campionati europei Indoor A Praga Nel 2015 Perché Era stato Un periodo Particolarmente Complesso E In cui Non riuscivo A saltare Come volevo E Sono arrivata Ai campionati europei E E mi sono qualificata Per ultima Come ottava E Quindi per il pelo E il giorno dopo Ho preso Una medaglia Facendo Quello che Per me Rimane Il salto Più bello E forse anche più alto Della Mia vita Sportiva E Ricordo La sensazione Di Energia Infinita Che avevo Nel momento In cui mi sono resa conto Che l'asticella Era rimasta su Ed è La tensione Di quel momento E L'esplosione Che poi C'è stata E per me Rimarrà Penso La sensazione Più elettrizzante Che Mi porto Dietro Dalle Dalle gare Vissuta Proprio Nel momento E In termini Di vita Personale E È molto Difficile Ci sono Momenti Ci sono stati Momenti Molto 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 Emozionanti Ma È diverso È un'emozione Diversa Più Diffusa Tenue Più tenue Sì Comunque Mi capita di vederle Spesso Le gare di atletica Io credo Che Il salto In alto Dato che C'è comunque La componente Della sticella Che può Cadere Non cadere Anche nel salto Con l'asta Che è l'altro Sport che ha L'asticella Però nel salto In alto Almeno da fuori Lo percepisco Diversamente Perché È quasi come se Fino all'ultimo Non sai se Può cadere Non può cadere Perché Sei di spalle Non la vedi Mentre Ad esempio Nel salto Con l'asta Comunque Ti giri La vedi Ci passi sopra Voi occhi E quindi Quando Hai detto Tu ti sei girata Hai visto L'asticella Ancora lì Perché È quasi Un momento Che ti giri E devi vedere Cosa c'è No Penso sia Un'emozione Potente Quando poi Ti giri E vedi che Tutta quella Tensione È scaricata In quel momento Esatto È proprio questo Che c'è un momento In cui Hai la percezione Di aver fatto Un buon salto Però effettivamente E magari L'hai sfiorata Ma capita spesso Di sfiorare l'asta E dici È rimasta su O non è rimasta su Atterri sul saccone E vedi E in quel Piccolo spazio Di tempo Secondo me C'è Proprio l'emozione Del salto in alto A me piace Sempre molto Anche il momento Della corsa In curva Perché È una C'è molta Forza E molta energia Che metti A terra E sono momenti Diversi No Una è un'aspettativa E l'altra È un'attesa Certo È bello 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 Invece Parliamo di Emozioni negative Qual è stata A livello sportivo L'emozione negativa Più forte Che provata Nella loro vita Ma forse Tra le Delusioni Più Scottanti C'è stata Quella Dei Campionati Del mondo Di Londra Nel 2017 Dove non sono Entrata in finale Veramente Per poco E Mi ricordo Di aver guardato La finale Dall'angolo Più remoto Del Dello stadio Da sola Stavo malissimo Stavo veramente malissimo Dal punto di vista Sportivo Sì Questa è stata La La delusione Più Più grande Sì Forse la prima Veramente Sono quelle che si ricordano Un po' più Più di forza Quelle prime volte Che Che stai così male Sì Addirittura L'hai messo davanti All'infortunio Quindi insomma Sì L'infortunio è diverso Perché In qualche modo Non ti attribuisci La responsabilità Del Sei molto impegnato Nel cercare Di recuperare E Invece Quando una gara Va male Perché Non sei riuscito A fare Qualcosa E È molto più diretto L'impatto E Poi È molto difficile Capire Se c'è Dov'è la responsabilità Di un Di un fallimento In gara E Da atleti Tendenzialmente Si tende a Rimetterla Su se stessi E dici Sono io Che non sono stato In grado Di essere competitivo Sì sì E quindi La delusione Penso che Derivi dal fatto Che c'è Un gap Tra Come tu Vorresti Vederti E come invece Nella realtà Ti ritrovi Certo Sì sì Insomma Mi ritrovo Molto In quello Che dici Comunque È un po' Quello che Dicono Gli atleti In generale Quando Una cosa va male Almeno Non tutti Alcuni Danno la colpa D'altri Danno sempre Scusa Le scuse Ai posteri Però Secondo me Quelli sono Quelli che poi Alla fine Risultano essere I meno Emergenti Quando Ti riesci a dare Le colpe A te stesso E lavora Su te stesso Poi Bene o male Sono quelle persone Che poi vedo E sento parlare Che poi Sono quelle che Arrivano da qualche parte Sì È un Un viaggio Credo Dare la responsabilità A te stesso E come dire Ok Effettivamente Prendo atto Che Il contesto Di riferimento È così E io mi muovo In questo contesto E quindi L'unica cosa Che posso fare È cercare di Capire come funziona E mettermi In gioco Per Raggiungere un obiettivo Se è quello Che Come si dice Scintilla Ok Lì davanti Che vedi Che si illumina Giusto 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 E prima Hai detto Un po' prima Un po' Un po' di tempo fa Che avevi L'idea Di smettere Ora Immagino che Per arrivare A quel momento Quell'idea Ci sia stato Un percorso Però ti voglio chiedere Né in generale Nella tua carriera Non soltanto In quel periodo Ti è mai capitato Di sentirti Demotivata E quindi Non all'altezza Di quello Che stai portando avanti E arrivare al punto Di dire Ok Basta E Come hai affrontato Quei momenti Sì Mi sono trovata Sicuramente Molte volte Con la sensazione Di non essere All'altezza Di quello Che stavo facendo E Penso che Questo derivasse Principalmente Dal fatto Che non avevo Stabilità tecnica Mentre Mi illudevo Di averla E Nel senso Che Avevo Una voce Dentro di me Che diceva Effettivamente Io so saltare Perché Nelle categorie Giovanili Ho vinto molto Ergo Sono capace E In realtà Le competenze Tecniche Vanno mantenute E soprattutto Mi sono Mi sono allenata Seguendo diversi Modelli tecnici Poi E questo ha creato Una grande Confusione Dentro di me E Anche nelle mie Abilità E quindi A un certo punto Ho dovuto fare i conti Con La Consapevolezza Che effettivamente Non avevo Le competenze Tecniche Che E le abilità Tecniche Che Pensavo Di avere E improvvisamente Mi sono resa conto Che non era All'altezza E allo stesso tempo Cambiare allenatore Anno dopo anno Non significava Solo Cambiare Tecnica Ma Significava Anche Cambiare Metodologia Per cui Non solo Non avevo La precisione Di guida Ma non avevo Neanche il motore E Provare a ricostruire Il motore È stato L'obiettivo Primario E In secondo luogo Abbiamo cercato Nel momento In cui mi sono Trasferita a Roma Di Ritrovare Un modello Tecnico Che Fosse compatibile Con il motore Che avevamo Costruito E Quindi Ho perso La percezione Delle capacità Ma La cosa Veramente strana È che Non ho mai avuto La sensazione Di perdere La motivazione È diventata È diventata Un'ossessione E E lì è stato È stato Piacevole Secondo me Provare a Ricostruire tutto E Anche a Ritrasformare L'ossessione In motivazione Quindi comunque Anche nei momenti Peggiori Possiamo dire Sentivi di avere La motivazione Dalla tua parte Sentivo di avere L'ossessione Dalla mia parte Ok Dicevo Ok Io Faccio questo E E faccio questo Punto Ho perso il senso A tratti E Però A volte L'ossessione Permette Di continuare A stare Nel binario In cui Stavo E Poi Appunto Venendo qua Ho riscoperto Anche la motivazione Cioè Compreso il piacere Di andare in pedana E dire Ok Non lo sto facendo Solamente Perché devo Devo farlo Ma lo faccio Perché Voglio farlo Certo Generalmente Comunque Questi sono Sport abbastanza Individuali Quindi Non si hanno Compagni Di squadra O comunque Cioè nel senso Si hanno compagni Di squadra Ma è diverso Da uno sport Di squadra È molto Individuale Quindi Quando sei Sei tu Sei solo tu Con te stesso Però Quanto pensi Sia Stato importante Trovare anche Un gruppo Che Che Comunque Ti possa sostenere Nel tuo Nel suo piccolo E nelle tre decisioni Su una scala Da uno A dieci Almeno Venti Sì Tantissimi Veramente Tanto E Nella Quotidianità Della Dell'atletica Cioè nel piacere Di condividere Quello che Io effettivamente Faccio Tutti i giorni E magari Prima facevo In altri contesti Dove Non c'era Altra gente Che faceva All'atletica Come me No E qui Fortunatamente C'è Un gruppo Di Un intero gruppo Sportivo Ma anche Dei gruppi Di allenamento E quindi Facciamo tutti Le stesse cose Questo aiuta Molto ad avere Un senso Di appartenenza E anche A confrontarsi E' molto bello E poi Ho trovato un gruppo Con il quale Mi trovo Particolarmente bene Noi ci scherchiamo Diciamo che Siamo nati tutti A marzo E Per dire Ok Ci troviamo Effettivamente bene Perché siamo Tutti Molto simili Poi c'è Sonia Che Invece E' nata A ottobre E la prendiamo In giro Però E' bello C'è effettivamente Della coesione Io Poche volte Mi sono trovata Così bene Con Delle persone In campo Io credo che Questo Sia anche Poi Un'energia Che ti porta A voler continuare No? Nel senso Non 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 mollo Anche perché C'è questo Che non mi fa mollare L'unione Sì Sì È molto bello È molto motivante Ed è anche molto Quotidiano A me Questa dimensione Prende tantissimo Dico io effettivamente Penso di allenarmi Per gareggiare Perché ci sono le gare Però In campo Vado Tutti i giorni E Effettivamente Cos'è che fa La prestazione E cos'è che fa La possibilità Di Andare a gareggiare Con Anche il bagaglio emotivo Che serve per gareggiare Quello che fai Tutti i giorni E questo Viene dal gruppo Fondamentalmente Dall'allenatore Dal gruppo Dalle dinamiche Interne al gruppo Credo molto Beh Comunque Legami che crea Lo sport Sono Penso Tra i più forti Ce ne sono Sicuramente altri Però Avendo fatto Principalmente Anche io Quello Quando Crei delle gravità Tramite lo sport Condividi le sofferenze Condividi tante cose Che poi Ti legano Inivirabilmente E Quali pensi Siano Invece Le Le tue debolezze Mi hai parlato Dell'ossessione Quasi come se fosse Un tuo punto di forza Che ti ha aiutato No Invece Parlando di debolezze Parlando di debolezze In termini di competitività E di performatività Penso che La difficoltà principale Sia stata Che mi chiedo Il perché di tutto E E questo A volte Ha Reso alcune situazioni Più Più complesse No Dici ma perché non salto O perché non riesco A Uscire Dalla bolla mentale Nella quale Irimmediabilmente Mi ritrovo Nel momento in cui Sono di fronte Ad una situazione E quello che Mi è richiesto di fare E gareggiare A volte questo Dal punto di vista Performativo Non aiuta È molto interessante Per quanto Mi riguarda Però A volte Sarebbe molto più semplice Staccare Esatto E Semplicemente Saltare E Anche questo È stato Sono Non mi viene da dire Che ho imparato a farlo Ma sarebbe un'esagerazione Non ho imparato a farlo Però Negli ultimi anni Mi è risultato Molto più semplice Però Sì Penso che questo sia Il mio limite Principale In termini sportivi Dal punto di vista Fisico Mi piace Proprio La Allenarmi E avere a che fare Tutti i giorni Col mio corpo E Avere una sorta Di intimità Con quello che faccio Però Paradossalmente Appunto Poi Questo diventa Un grande limite Nel momento in cui Bisogna scrollare Devo scrollare Me stessa E dire Ok Adesso devi gareggiare E fare Sono perennemente Innamorata Di quello che Di quello che ho intorno E di quello che Vedo E Quando c'è da gareggiare Bisogna gareggiare Certo È diverso Sì Bene 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 Quindi Comunque Debolezze Legate al Pensare troppo Sì Quello Che poi È una cosa Che Ne ha parlato Anche Francesco Nel Fortunato Nel episodio Che deve ancora No Che è già uscito Quando vedrete questo Che è già uscito Insomma Che anche lui Ha parlato Di essere Una persona Molto Che ragiona Tanto Che pensa tanto Addirittura Ha detto Le gare Che vanno meglio Sono quelle in cui Penso di meno Quindi penso che Sia un po' una cosa Che si ritrova Un po' in tutti No Questa cosa Di non Di non pensare Quando fai Le gare È Difficile E se ce l'hai In nata Viato te Eh sì 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 Immagino E Se avessi la possibilità Di tornare indietro nel tempo Cambieresti qualcosa Della tua vita Delle scelte che hai fatto Anche Chiaramente sportive Parliamo Questa domanda È difficilissima Perché Ti direi di no Perché Penso che Effettivamente Nel momento in cui Ti trovi a fare una scelta Pensi di Fare la migliore scelta Che hai davanti E quindi Se ragiono così Mi rimetto nelle situazioni Nelle quali mi sono trovata E dico No In quell'occasione Ho scelto Quello che per me Era l'opzione migliore In realtà Potrebbe essere Solamente Una risposta D'orgoglio E Quindi Forse Dovrei dire di sì È interessante Perché Spesso Cioè Spesso Ovviamente Quasi tutti Mi hanno disposto Di no Secco Hai messo in mezzo L'orgoglio Che è una visione Interessante Di questa cosa Io ad esempio Penso sempre che Se siamo contenti Di quello che siamo oggi È perché nel tempo Abbiamo fatto delle scelte E quindi Se cambiamo Anche una sola scelta Probabilmente O forse Non siamo poi Quello che Siamo oggi Non saremmo Quello che siamo oggi Perché ogni scelta Poi ci porta O a un errore O a una cosa Che poi ci insegna Qualcosa E poi ci fa arrivare A quello che siamo oggi Quindi Cambiare Mi fa un po' paura Qualcosa Del fatto di Cambio quello Poi chissà Che sarebbe successo Però L'orgoglio L'orgoglio Non l'avevo mai considerato Come Come opzione Nel dire no Come si chiamava Quel film L'effetto farfallo Ah è quello Che cambi Le cose Sì mi sembra Mi è venuta in mente Mi è venuta in mente Adesso Sì effettivamente Saremmo diversi Però comunque Diresti di sì Quando Mentre mi parli Adesso Ogni volta Penso che Vorrei Porti le stesse domande E Adesso Che mi hai fatto Questa domanda Ho pensato Posso chiedertelo Quando ti farò io L'intervista O posso risponderti Quando Sì 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 No scherzo E Non lo so Sì forse Mi piacerebbe cambiare Interessante Questo va Prego Comunque Nuove Idee Su questo Su questa risposta Perché In realtà Ero anche Indeciso se levarla Perché Tanto mi rispondono tutti No Tanto mi rispondono tutti No sai Quindi non si apre Un discorso Però invece È interessante Quello che Che hai detto Perché Credo che L'orgoglio Sia una di quelle Di quelle emozioni Che ci porta spesso A Credere Di fare una scelta Perché è la più saggia Invece magari Solo perché Sì io credo Che da atleta Ci sia un po' Una ritorica Sulla figura Dell'atleta E quindi anche Sul comportamento A volte A volte Gli atleti Sono visti E ritenuti Dei modelli E Quindi Per quanto Noi facciamo Un'esperienza Che è estremamente Personale Nella quale Sbagliamo Perché sbagliamo Sbagliamo le scelte Sbagliamo Il modo di allenarci Sbagliamo tante cose Comunque Ci ritroviamo In una posizione Per cui molto spesso Non si sa Se siamo noi Ad autodefinirci Dei modelli Oppure se Veniamo definiti Dei modelli E quindi Entri un po' Nel personaggio Ed è difficile Poi Effettivamente Essere Sincero Con te stesso E dire Sono Sto veramente Ragionando io O è il modello Che mi sono O che mi hanno Messo addosso O che mi sono Messo addosso E E quindi Dico Ho fatto Delle scelte Sbagliate Verosimilmente Sì Perché Sono una persona Fatta di carne Di ossa E sbaglio E Mi risulta Molto semplice Dire No Assolutamente No Non so Se È È vero Non credo Bello Interessante Sicuramente meglio di un no secco Quindi la tieni Sì Quindi la tengo La tengo ancora La tengo ancora Invece parlando di Di critiche Ok Come le ricevi Se le ricevi E come le vivi Fino a pochissimo Tempo fa E Ero molto Sottoposta All'attenzione E Ricevevo le critiche Ignorandole E Veramente Dicendo Ok Stanno fuori Però Stavano fuori Dalla porta E Io sapevo Che erano esattamente Fuori dalla porta In realtà Negli ultimi periodi Sono Sono molto meno esposta Perché ovviamente Saltando di meno E In seguito a infortuni Sono molto meno esposta Però Ho anche Maturato Una Uno stare In quello che faccio Che è molto isolato Rispetto Al A quello che si dice E Si dice tanto E si dice Molte volte Sull'onda Dell'entusiasmo O della delusione E Una cosa che Ho notato Recentemente E che Leggo Dei commenti Riferiti Ad altri atleti Che Molto spesso Sono delle Le stesse persone Che Commentavano I miei risultati E Utilizzano Esattamente Le stesse parole Per cui Mi sono Resa conto Sul Sul campo All'atto pratico Che Sono Dei pattern Che si ripetono A prescindere Dalla persona Che è Sottoposta Alla Critica E al giudizio E che Riguardano Molto di più Chi scrive Di quanto Riguardino Chi Effettivamente È Sottoposto Alla Critica O al giudizio E Questo avrei voluto Veramente Osservarlo A vent'anni Probabilmente Mi sarei risparmiata Dieci anni Di Appunto Per la serie Delle cose Che si sbagliano E che vorresti Fare diversamente E Questo fondamentalmente Sono un po' Vuote Spesso Le cose Che si Ricevono Sì Sì Comunque Sui social Ormai È Talmente Facile Dire La propria Che Chi Accusa O Giudica Negativamente Quello che Poi fanno Gli atleti Dice sempre Le stesse cose Non è che Se fosse una critica Costruttiva Dovresti Argomentarmela E Farmela presente Invece Insomma Sempre le stesse cose Si leggono Che possono fare Diciamo Possono essere Possono essere Negative Da ricevere Ma possono essere Anche facili Da fastiscivolare Se si capisce Come hai detto tu Il pattern Che c'è dietro Sì Io credo Che Fondamentalmente Ogni atleta Che Si allena E Tutte le persone Che stanno Intorno a lui Abbiano a che fare Tutti i giorni Con una Complessità estrema Nel senso che Molte volte Conoscere una metodologia Di allenamento Conoscerne dieci È poco significativo Perché hai davanti Un atleta Che è biologicamente Diverso Da un altro E quindi Ed è anche Emotivamente Differente E quindi C'è bisogno Di creare Una condizione Che è un unicum Cioè funziona Solamente Per quell'atleta E quindi E quindi È sempre E sempre parlare Giudicare In maniera Un po' Generale Perché Non c'è la formula Che funziona Per tutti E non c'è neanche la formula Che funziona Per due E certo Certo quando sei un atleta E hai del successo E hai del successo Immediatamente ti trovi esposto E le critiche Non possono che risultare Personalistiche E questo è molto difficile Da tollerare Secondo me È un carico emotivo Molto pesante Per un atleta Che sta vivendo Un momento molto bello Sì Sì D'accordissimo Con le tue parole E invece Chi sono I tuoi più grandi fans? Cavolo Questo è Difficile Perché Non ti dirò I miei genitori Forse mio padre Forse mio padre Adesso Pensandoci I miei più grandi fan È sicuramente Mio padre I miei amici Non direi Il mio fidanzato Non direi I miei compagni D'allenamento Spero di no E Forse mio padre Forse perché È una Ipotesi Perché mi ha Avvicinato Al mondo dell'atletica E Quando Gli ho detto Che volevo smettere Era Era dispiaciuto Nel senso che Non riusciva Veramente a confrontarsi Con l'idea Che stavo Per smettere Però è sempre Stato molto Riservato E Non è Uno che dimostra Grande entusiasmo Quando Quando I suoi atleti Vanno bene E tantomeno E tantomeno con me E tantomeno con me Ecco Certo Perché comunque Non deve essere È complicato Il rapporto Allenatore Figlio E soprattutto Se il tuo figlio È un tuo Allievo Insomma Complicato Complicato L'ho visto L'ho vissuto Per persone vicino a me E E visto anche Che comunque A volte funziona A volte no Anche se in realtà Molti atleti di alto livello Sono allenati ai genitori Tantissimi Tantissimi Nell'atletica tantissimi Sarebbe Interessante Per qualcuno funziona Sarebbe Da Da farli venire qui E chiedervi Insomma Come Come funziona Questa cosa È comodo Esatto È comodo Vedete Ad esempio Duplantis Normalmente Allenato dal padre Dalla madre Neanche uno Che combo Tutte e due Non puoi dire nulla Che Insomma Sei subito Fulminato Nella tua vita Sportiva Fino ad oggi Chi ti senti Di ringraziare Maggiormente Gianfranco Che è stato Appunto Il mio primo Allenatore E Le fiamme gialle Che Sono state La mia squadra Quando sono andata Molto bene Ma soprattutto Quando sono andata Molto male E Andrea Fabrizio Fabrizio Ed Emanuele Che mi hanno Raccolto E rimesso in piedi Ed Emanuele Per avermi Restituito Il piacere Di fare Attività Con Della semplicità E Queste persone Sicuramente E Poi Ci sono Ovviamente Alcuni amici E Il mio Ragazzo E Il mio padre Per l'appunto Che Che in maniera Indiretta Mi hanno Sempre dato La possibilità Di fare L'atleta E di Metterlo Insieme Anche a Quello Che ero Fuori Dal campo Che sono Dal campo Per quanto riguarda la questione prettamente sportiva direi che il mio allenatore Mi sembra poi un po' corretto Prestituire un po' di merito A loro Sì Ogni volta che penso ai due metri Penso immediatamente a Gianfranco E dico Ok Io Ho messo il corpo e la mia energia a disposizione Ma Quel salto è stato costruito E' più suo che il mio Sicuramente Bello Bello Molto bello E invece Obiettivi futuri? Obiettivi futuri? E' un bel punto di domanda Perché All'alba dei 31 anni Che sono pochi nella vita Ma abbastanza in quell'atletica E Appunto considerato che Avevo in mente di Capire cosa fare E se continuare dopo Questo ciclo olimpico Quindi dopo Dopo Parigi E Dovrò cercare di capire Cosa fare Rientrare da questo infortunio E' Abbastanza difficile Nel senso che Richiede parecchio tempo E non è detto che la funzionalità Sia quella che c'era prima E In più venendo da Da Degli ultimi anni Particolarmente Impegnativi in termini di ricostruzione Pensare di ripartire E' Sicuramente Complesso Difficile Ecco E Diciamo che questo infortunio Per quanto abbia cercato di viverlo Nella maniera più Più serena E' Quindi Quindi Il futuro Sportivo E' Molto breve Cioè Nel senso Non nel senso che finisce domani Ma nel senso che i ragionamenti che riesco a fare Sono molto a breve termine Certo Tutto adesso Dipende Dipende da Cosa succede nei prossimi minuti Va bene Spero che Comunque Il recupero sia Il più velocemente Il più veloce possibile Che Che vada tutto bene Che tu riesca soprattutto A tornare a saltare Come Come vorresti E ti ringrazio tantissimo Per essere venuta Perché è stata veramente Una bella caccherata Veramente mi ha fatto tanto piacere E E niente Quindi Spero che vi sia piaciuto anche a voi Spero Che vi abbia fatto un po' di compagnia Per questo Questo breve tempo E E niente Ci vediamo in un prossimo episodio Grazie a te E' stato molto bello Grazie E Poi dimmi quando posso tornare Per cambiare i ruoli Va bene L'intervista al contrario Simpatica Simpatica Si potrà fare Assolutamente E niente Ciao Ciao a tutti Ciao 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 a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie.